E' vicino e aggiunge il Signore, rappedetevi, pentitevi dei vostri peccati, credete all'Evangelo, l'Evangelo di Gesù Cristo, l'Evangelo di Dio, l'Evangelo del Regno di Dio, attraverso l'Evangelo puoi conoscere la verità, attraverso l'Evangelo di Gesù Cristo conoscerai la verità, e sarai libero, e sarai libera, gloria al nome del Signore. Bene, Gesù può perdonare i tuoi peccati, caro di Catania, cara di Catania, non vi è nessun altro che può perdonare i tuoi peccati, Sono Gesù e sono Dio che è Gesù Cristo, l'uomo, alleluia. Amen, alleluia, oh gloria al Signore, grazie. Cosa stai andando, cosa stai seguendo, devi sapere che la religione non può salvare nessuno, le religioni non possono salvare, Anzi, ti dirò, la tua religione è una palla di piombo ai tuoi piedi, perché Gesù lo dice chiaramente, non chiunque mi dice, Signore, Signore, erediterà il Regno di Dio dei Cieli. Amen, alleluia, ma chi fa, ma chi fa la volontà del Padre Dio che è nei Cieli. Gloria al Signore, alleluia. Sappi che i comandamenti di Dio non sono gravosi. Gloria al tuo nome, ti adoriamo Gesù. Gesù ti concede la grazia, il perdono dei tuoi peccati. Gesù Cristo ti dona il suo Santo Spirito. Amen. Amen. Ed è per mezzo dello Spirito Santo che tu puoi cominciare una vita nuova. Amen. Cristo giù, il Signore di Dio, l'Emanuele, il Signore dei Signori. il Re dei Re, l'Ottipotente. Alleluia. Credi e sarai salvato. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. E sarai salvata. Sentirai, sentirai la presenza nell'amore di Dio nel tuo cuore, nella tua vita. Alleluia. Stai a scartare, a allontanarti dal male, dalla vita di peccato che fino ad oggi hai condotto. E' scritto nella parola di Dio. Grazie, Signore benedice. E i fornicatori, gli adulteri, gli omosessuali, gli effemminati, gli idolatri, i bugiardi, i codardi. Purifica, Padre. Non erediteranno il regno del Cielo. Orrabasce, chi liberenda. Ti devi ravedere. Amén. Il tempo è compiuto, cari di Catania. Ci sarà un nuovo ordine mondiale, un capo unico del mondo, una moneta unica mondiale ci sarà. E la strada all'anticristo si sta aprendo. La politica è corrotta. Il clero è corrotto. Sono delle organizzazioni al servizio di Satana. E' vero. Noi lo sappiamo perché conosciamo la verità. Amén. Conosciamo il Vangelo. Gesù ha avvertito e avverte ancora la Chiesa, la vera Chiesa. Alleluia. Tutti coloro che credono del Figlio di Dio si umiliano e chiedono perdono a Lui. Sono la Chiesa del Signore. E aggiunge il Signore. La vedetevi. Mentitevi dei vostri peccati. Alleluia. Se le vedete all'Evangelo. Glorie a Dio. L'Evangelo di Gesù Cristo. L'Evangelo di Dio. L'Evangelo del Regno di Dio. Alleluia. Attraverso l'Evangelo puoi conoscere la verità. Attraverso l'Evangelo di Gesù Cristo conoscerai la verità. E sarai libero. Amén. E sarai libera. Glorie al nome del Signore. Alleluia. E il Signore. Benedicemi. Gesù può perdonare i tuoi peccati. Amén. Caro di Catania. Caro di Catania. Grazie. Grazie. Grazie.